ciao a tutti oggi è domenica 11 giugno 2023 allora io volevo far vedere un po la situazione delle cucurbitacee allora qui siamo nel filare vicino a casa dove anche i pomodori in insalata di filippo qui in fondo mi rimane un po di spazio messo dei meloni che mi ha dato enrico allo scambio di semi di borgotaro quest'anno credo che sia il melone moscatello sono vorrei dire un'eresia ne ho messe ne ho seminati diversi hanno tenute due le altre le ho regalate e poi qua ci sono delle zucche che mi ha mandato alessandro per il progetto su varietà sementiera e non so francamente che varietà siano e qui effettuerò l'impollinazione manuale non l'ho mai fatta ma ho già preso i sacchetti per chiudere i fiori e poi appena appena crescono un po voglio provare effettuerò l'impollinazione manuale con ho preso dei sacchetti di organza per chiudere il fiore femminile andrò a prendere il fiore maschile lo apro lo vado impollinarlo chiudo vediamo non l'ho mai fatto farò delle prove queste qua secondo me ci assomigliano a quelle queste qua tipo ce ne sono di diverse vedete questo qua vedete c'è le foglie diverse vediamo via vediamo cosa cosa ne esce vediamo se riesco a fare l'impollinazione e questa è la prima mini parte adesso ci spostiamo andiamo nell'altro orto dove dove ora l'altra parte diciamo allora qui siamo nel secondo orto vicino dove ho le api e quindi qui troviamo allora e sono tutti i semi che sono stati messi a dimora e direttamente quindi abbiamo dei zucchini striato verde credo che sia delle zucche trombetta questi qua tutta seme nostra seme dell'anno scorso sia questo sia questa trombetta l'ho messe allora l'ho messe a un metro e mezzo le trombette due vicine sono due piante vicine usato la tecnica che faceva vedere leonardo di donato sul suo canale youtube sono conoscete guardateli perché sono molto fa dei video veramente validi lui è veramente molto molto bravo un'esperienza incredibile infatti io posso appunto per molte cose nell'orto comunque un metro e mezzo due piantine 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 questi sono zucchini questi sono zucchini ci sono delle trombette ok poi ho messo una fila in mezzo perché non sa proprio dove mettere perché l'ideale era fare questa fila e poi saltare un metro e mezzo e fare questa vedete ci sono altre trombette queste qua sono trombette trombette questi qua sono zucchine poi l'ho messo una fila in mezzo perché aveva una marea di semi e ho detto vabbè li mettiamo se vengono e appena messi poi li ho coperti con delle cassette da frutta con dei mattoni perché che così non me le non me le mangiassero le le lumache e prima ho detto ho detto che l'ho messo direttamente il seme in realtà ho messo il seme gli alveoli appena sono usciti i cotiledoni l'ho messo in terra quindi le piantine erano piccolissime si non le ho messe direttamente i semi perché così ero sicuro della germinazione quindi prima le ho messe negli alveoli in germinatorio appena sono nati li ho messi in terra vedete qui ci sono delle zucche che mi ha portato andrea che sono quella di chioggia credo vediamo se c'è un etichetto una è l'ho kai do forse questa ci sarà da qualche parte eccolo qua questa è ho kai do e questa è quella di chioggia allora di andrea me ne ha portate ci sarà da qualche parte comunque questa qua di andrea mi ricordo c'è il cartellino adesso non lo trovo lì l'abbiamo messo e questa qua è la zucchina bianca di andrea ci ha portato lui vedete c'è scritto zucchina bianca e questi qua invece sono altre zucchine sempre delle nostre e poi ci dovrebbe essere allora questa che non so se è una luffa una cedrina perché ha mandato della della delle zucche cedrine non mi ricordo se una cendrina o una luffa ne ho due non mi ricordo queste e queste sono gli zucchine vedete e queste sono le cucurbità c'è ho anche qualche cetriolo dalla parte di là che perché ho messo per tenere il seme più che altro perché andrea mi ha porto i semi andrea le ho seminati tardi quindi non sono piccoli comunque questo diciamo è la situazione delle cucurbità c'è in questo momento di inizio giugno vi saluto ciao a tutti ciao grazie a tutti